Grazie a tutti. Vota quell'altro, addirittura mentre venivamo qui qualcuno ci ha telefonato, vota questo, ma come a noi ci dici questo? Questo è un affronto assolutamente diabolico proprio. Allora, perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché appunto come diceva un attimo fa Andrea, noi seguiamo l'andamento geopolitico e storico sia per quello che riguarda il passato sia per quello che riguarda la rivoluzione presente, proprio perché per fare un'analisi geopolitica occorre sapere cosa è successo prima perché come diceva qualcuno se non conosci il passato non puoi determinare il presente e meno che mai il futuro. Quindi occorre, è ineludibile cercare di avere un panorama chiaro per poter poi sviluppare anche dei progetti, creare delle prospettive e creare anche un percorso. E' quello che oggi noi stiamo facendo qui è una prima tappa di un percorso che ci porterà abbastanza lontano. Quindi ecco, c'è da tenere presente che la maggior parte della gente oggi, come diceva appunto un attimo fa per altro verso Andrea, non ha la minima idea della sua partecipazione perché partecipa a una vita sociale. Vanno mai spiegato a scuola perché uno deve socializzare, eppure ci sono dei motivi, ne abbiamo parlato anche prima, però io non mi ricordo che a scuola mia, che avevo pure anche dei buoni professori, fosse mai stata identificata un'analisi approfondita su questa situazione, su questo argomento. E quindi noi siamo come dei guidatori che guidano l'automobile senza averne fatto un giorno di scuola guida. E' chiaro che poi succedono queste cose, è normale, perché se un popolo avesse saputo che il 18 novembre del 2011 c'è stato un colpo di stato macroscopico, proprio assolutamente plateare, e nessuno ha detto niente, quel testa di cazzo di Giorgio Napolitano, che l'abbiamo denunciato sette volte, sette volte, per sette scenari di reati in mani, no? Ed è lì. Addirittura si è fatto la replica del mandato di due anni, quando c'è tu, vedi l'affanculo, scusate l'espressione, ma così ci vuole. E quindi ecco, il problema è questo. Noi non abbiamo una capacità consapevole, condivisa, collettiva. E' quello il problema. E quindi subiamo poi queste angherie, di questi cialtronasci, che se fossimo un paese un po' meno cretino di quei francesi, o meglio ancora gli svizzeri, come ci prova uno. A Roma dicevano, quando nel 504 a.C. mandarono via Tacquini in Superbo e poi venne Brenno, Porzenna e tutto quello che ne consegue, eccetera, a un certo punto fu creata la Repubblica. E' il primo articolo della Costituzione Repubblicana di Roma, che poi fu scritta 200 anni dopo circa, però era quella, era tramandato oralmente, era il primo che cerca le false re, va ammazzato. Allora, è chiaro? E' chiaro? E questo dovrebbe essere il primo argomento. Allora, no, faccio un altro esempio. Nella Costituzione dell'anno primo, del 1791, 93, fu redatta la Costituzione, appunto, e ciò aveva 35 articoli. Gli ultimi 5-6 articoli erano tutti su quel tenore lì. Cioè, se qualcuno cerca di prendere il potere contro il popolo, va eliminato istantaneamente. Faccio ancora un altro ricordo. Nel 1947, durante i lavori della Commissione Costituente in Italia, ci fu il signor Aldo Moro e Giuseppe Dossetti, che poi fecero entrambi una brutta fine, perché uno fu ammazzato e l'altro fu rinchiuso dentro a un'abbazia, così non rompeva troppo le scatole. E loro avevano scritto, cioè nei verbali della Commissione Costituente, che appunto andava inserito nella Costituzione quella quale, quella che abbiamo noi oggi, che andava appunto perseguito il potenziale tiranno o fazione tirannica che avesse preso il potere in Italia. Tant'è che c'è un articolo della Costituzione proprio, l'articolo 54, che dice che il popolo ha il diritto e il dovere di tutelare la Repubblica. E c'è una legge, che è la 378 dell'83, che è il testo unico per le forze armate, che dice all'articolo 3 e 4, che le forze armate devono giurare fedeltà alla Repubblica, non al governo o alle istituzioni, al senso della Repubblica in senso ampio. E le polizie e i corpi armati, quando avvenne appunto il 18 novembre del 2011, questo colpo di Stato, noi li abbiamo avvertiti, siamo andati a parlare con il comandante generale dei Carabinieri e non ci ha ricevuto sto stronzo. Colluso ovviamente, d'accordo anche lui. Quindi questo per dire che noi ce l'abbiamo messa tutta, in ogni occasione che si è benificato. Ne ricordo ancora un'altra, il signor Topolino Sottile, quello che si chiama Amato, ma lo chiamano il dottor Sottile, o Topolino, che direi questo, eh? Questo signore, spero che ci ascolti, che veda questa, così mi denuncia per diffamazione, e poi andiamo a vedere perché. Io lo cito adesso. Questo signore, nel 1961, quando era ancora il signor Nessuno, ma era già pagato da chi sappiamo noi, perché se li si allevano, come Prodi, per esempio, è stato allevato, e quando ci ha laureato, è andato a fare il master in Inghilterra, adesso non mi ricordo più, l'università qual era, ma a Cambridge, era a Cambridge, è andato a Cambridge, e lì lui fece questo, diciamo questo super dottorato, dopodiché fu richiamato a Roma, a Bologna, e tralasciamo che cosa ha fatto che è troppo immundo da raccontarlo, e poi troppo lungo, non merita tutto il mio tempo che dovrei dedicargli, quindi assolutamente, però questo per dire che lui nel 1961, il dottor Sottile, raccontò, l'ho citato in varie occasioni, che appunto andava sovvertito, chi cercava di sovvertire l'ordine repubblicano, l'ha detto lui, poi nel 1991, quando è andato al potere, col cavolo che se ne è ricordato, perché in quel momento lì, come ha fatto anche Grillo, come ha fatto anche il signor Tonino Di Pietro, che quando devono emergere, che fanno? Fanno i populisti, ah basta con il suo governo, basta con i disgraziati, tutti collusi, no, come noi adesso, solo che noi non c'abbiamo nessuno che ci ha mai pagato, che dobbiamo andare in giro a raccattare le cicche per poter andare a fare queste conferenze, questi incontri, perché giustamente le risorse che abbiamo noi, sono quelle che avete voi, né più né meno, e quindi non ci abbiamo alle spalle i Rothschild, i J.P. Morgan, eccetera, come ci hanno vesti, come anche Beppe Grillo, Beppe Grillo, c'ha Sassun, che è il nipote di Rothschild, nipote proprio, fra l'altro pure pari d'Inghilterra, il signor Sassun, che fa parte del collettivo, del direttivo, dei grillini, così, insomma, per dire un po' di informazioni, se non ci restano stazioni, no, ci restano più, allora, continuiamo, ne racconta ancora, cioè, se volete, dice il mio libro, se è alla disposizione, lì racconto un bel po' di cose, di più di quello che posso dire, che sono 300 pagine, cioè, ricordalo, ricordalo il libro, quella che è, siamo arrivati a preso al centro, arma letale, ovvero cambiare sociale, dove appunto esamino tutta una serie di punti storico-geopolitici, a partire da, 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 sul Banipal, addirittura, e poi arrivare a giorni nostri, gradualmente, e anche prospettare che cosa si aspetta, e allora, tutto questo, diciamo, lungo prologo, per arrivare al punto del, perché siamo in queste condizioni, siamo in queste condizioni, e questi signori, faccio riferimento a quello che ha già detto, appunto, Andrea, c'abbiamo, della gente, dunque, il governo Berlusconi, il 21 dicembre, guarda ragazzi, il 21 dicembre, il giorno del, del, del grande dio, che sappiamo chi è, no? Il dio Mitra, il dio Orione, il dio Siride, è sempre lui, ci sono tredici dei, che rappresentano, la, il, il sostizio d'inverno, ed è, fra il 21 e il 24, 25 anche, e, eh, appunto, in quell'occasione lì, era l'ultimo giorno buono, eh, il governo Berlusconi, eh, prodotto questo infame, degredo, che è stato, poi, chiamato, il Porcellum, no? Perché era veramente, una porcheria assoluta, ma meglio di questo che ci abbiamo adesso, molto meglio, allora, eh, il 21 dicembre, emana questa legge 265, 265 del 2005, la quale, eh, è andata avanti per un po' d'anni, e finché poi hanno un introdotto di Dallum, adesso il Rosadellum, e ci ritroviamo in questo mondezzaio, dove, finalmente, un avvocato di, di Milano, eh, mi pare che si chiama Carli, nel 2009, fece, eh, un procedimento, aprire un procedimento, su questo argomento, e, e aprendo, il procedimento, poi da lì è scaturita anche, la fase di, analisi, costituzionale della questione, quindi, tutto quello che ne è conseguito, per arrivare a quello che ha detto Andrea, ma, eh, la cosa, diciamo, che andava detta, è che leggi, no, di un governo illegittimo, in cui non c'è più la decisione, la possibilità decisionale, da parte del cittadino, di scegliere il suo candidato, ma è scelto dalla segreteria del partito, quella è una limitazione, assoluta del diritto elettorale, no, sia del diritto elettorale passivo, che quello attivo, no, cioè, quella di essere proposto, io, per esempio, potrei proporvi come, come, eh, candidato, ma a me non mi accetterà mai nessuno, perché lo sanno, che io penso davvero quello che dico, e dico davvero quello che penso, e non come loro che, raccontano delle boiate assolute, e poi, ovviamente, hanno un loro bel progetto, o, diciamo, opportunistico, no, e quant'altro. Allora, noi ci ritroviamo in un argomento così delicato, in una situazione così difficile, proprio perché c'è questa intreparazione di fondo, dovuta all'ignoranza assoluta della stragrande maggioranza della popolazione, addirittura nelle fasce più alte, anche a livello universitario, io vado in giro dalla mattina alla sera, da anni, e ho trovato dei cialtroni assoluti che insegnano, l'università, anche di grande nome, c'è capace, c'è gente senza, che legge, impara memoria, non si mette a giudicare la validità teorica e coerente di quell'argomento che tratta la legge, o, diciamo, lo studio che stanno andando a verificare, e lo prendono per buono, e lo fanno loro e lo insegnano ai ragazzi, delle cazzate assurde, innominabili addirittura, ogni tanto mi riscontro questa gentucolare, e veramente mi fa, cioè scappa, fugge, quando gli dice, va bene, allora, quello è quello che gli dico, come analizziamo? Allora, posto per ipotesi che? Che cosa si ottiene? Scappano, e non sono stati abituati, e io, fortunatamente, devo dire che sono da scuola, gli eccellenti professori, mi hanno sempre dato, io ero un scavezza collo, immaginate, lo sono adesso, perché ho 70 anni, figuriamoci, quando ce ne avevo 15, io tiravo davvero le bombe molotos, non è che scherzavo, raccontavo un episodio a qualcuno, un giorno, io ero fidanzato, dico questa è troppo, ero fidanzato con una ragazzetta, avevo 17 anni, e lei era un'amica del cuore, con cui usciva sempre, e la figlia del cuore si era fidanzata con un altro ragazzo, e questo ragazzo, il sabato e la domenica, eravamo liberi da impegni scolastici, andavamo in giro, in discoteca, dove era, e mettevamo la benzina in consorzio, un po' per uno, lui c'era la 500, perché io non c'avevo ancora la macchina, e poi compravamo le sigarette, le Mers, in cooperativa sempre, che c'era una lira, ma anche le piane, e allora, un giorno, io ho partecipato a quella che è stata, la cosiddetta battaglia di Valle Giulia, noi eravamo a Seragliari, nella facoltà di architettura, che sul lato, andando verso il centro, sul lato sinistro, al centro c'è il vialone, dove c'è la ferrovia, anche noi, i ratai del tram, e dall'altra parte c'erano i celerini, ma tanti, noi eravamo 5.000, loro più o meno, eravamo proprio tanti, ma tutti belli, diciamo, dotati di strumenti, di testaggio, di contento, per contento, eccetera, ad un certo punto, arriva la carica, noi rispondiamo, e c'era uno che menava, un celerino, io giù, botte, botte, lui, botte, io, a un certo punto, ho detto, razio, ma chi? Poi guardo, vedo che lui, dice, ma che cazzo stai a fare? Ma come che? Insomma, era Ciro Panico, adesso commissario di Corizia, che, ci menavamo, lui era l'amico finanzato della mia, della mia finanzata, cioè il finanzato dell'amica della mia finanzata, e ci menavamo dei 10 minuti a sprangati a giubbotte, questo per dire, insomma, però allora c'era passione, c'era sentimento, c'era, diciamo, collaborazione, coesione, fiducia, e invece, oggi non c'è più niente, questo è il disfacimento voluto, non è casuale, cioè il fatto che non insegnano nelle scuole, più le due ore di educazione civica, e l'hanno tolta completamente, già due ore fanno ridere, no? E dovrebbe essere la materia principale, tutti i cittadini, qualunque attività facciano, devono comunque stare insieme, devono comunque collaborare, devono comunque contribuire al miglioramento della nazione, della società, eccetera, e questo è un obbligo, non è, è un dovere, è anche un diritto fare queste cose, è invece del tutto abbandonato questo percorso, quindi noi oggi qui da anni facciamo, quello che cosa facciamo, cerchiamo di far capire alla gente le cose che gli servono, informazione, e cerchiamo poi di instradarle su percorsi che magari sono stati tentati solo sporadicamente, o che addirittura non sono mai stati tentati, ma che sono legali, ad esempio c'è l'amico Marco, e non violenti, e non violenti, c'è l'amico Marco Giampa, e quindi c'è il percorso delle bombe Volodon, va bene, ma io avevo 17 anni, allora lo devo fare, erano altri tempi, erano altri tempi, oggi non lo rifarei mai più, ovviamente, ma, cioè, faccio altre cose però, altrettanto funzionali, altrettanto esplicite, e, ad esempio c'è, a proposito delle operazioni che si possono fare contro questo regime, la operazione migliore è questa qua, cioè, il controllo della moneta, perché col controllo della moneta, controlli il mondo, e allora, l'amico Marco Sabba, che ci frequentiamo da anni, anche litigiamo spesso, perché, quella verbo, quella, diciamo, quella, diciamo, sensazione, di rabbia, repressa, interiore, rimane sempre, anche a 70 anni, non c'è più l'agilità, e la forza che ci avevano avventi, però c'è, c'è quella, quel senso di insoddisfazione, di, di, ingiustizia, di, di usurpazione del proprio diritto, che ti dà quella carica, che ti serve di energia, per fare poi, una reazione, e allora, dicevo, c'è l'amico Marco Sabba, lo conoscete? lui è uno come me, per altri versi pure peggio, di me nel senso buono del termine, perché, lui fa, diciamo, principalmente il topo di biblioteca, dice, ma se il topo di biblioteca, è uno, che fa, cose che l'anti, sì, perché lui, è uno che va alla ricerca, di queste informazioni, che ho dato anche io, alcune delle informazioni, le va a recepire lui, a scavare, a scavare, a scavare nei meandri, degli archivi, eccetera, e una delle cose che ha scoperto, lui, lui è avvocato, no, lui è psicologo, e invece c'è l'altro amico, Marco della Luna, lo conoscete? Che è invece, un avvocato, un avvocato, in gambistica, e c'è anche un altro paio di lauree, così, a passare ancora lui, e a settembre dell'anno scorso, del 2017, ha scoperto, una cosa eccezionale, nel corso di un dibattimento, in cui stava, ci aveva un suo assistito, che stava agendo, contro la Banca d'Italia, che sappiamo chi è, no, la Banca d'Italia, scusate, una banca commerciale, adesso non mi ricordo, ma è uguale, non cambia niente, noi abbiamo denunciato, la Banca d'Italia, la Banca centrale, anche l'altra, due settimane fa, no, anche la settimana scorsa, venerdì scorso, lui non c'era, ma venerdì abbiamo fatto un'altra, non posso partecipare in quella, era impegnato, era impegnato, e quindi, ecco, questo per dire, che conosciamo bene, i nostri avversari, e in quell'occasione lì, durante questo dibattimento, c'era un consulente ufficiale, della Banca d'Italia, che diceva, a seguito di una serie di domande, del giudice, praticamente diceva, però il contendere era questo, noi ci occupiamo anche di questo, soprattutto, anche di questo, il contendere era che, c'era, una, diatriba, fra questa società, che era, mi pare un autosalone, se mi ricordo bene, una SRL, di, diciamo, una società, che gestiva un autosalone, e, in questo autosalone, aveva preso dei mutui in banca, e questi mutui in banca, perché c'era tutta una storia, insomma, troppo complicata, non entro nel dettaglio, e il fatto sta, che, l'avvocato Marco della Luna, diciamo, addebitava, alla controparte, il fatto, che, e questo vale per tutti, il codice civile, è lì, non è che sparisce, il codice penale, è lì, non è che sparisce, i codici esistono, e sono, il risultato, di 2000, e passa l'anno, in storia del diritto, quindi, non è che stanno lì, per caso, e sono fatti in quel modo, per caso, stanno lì, perché, devono essere fatti in quel modo, perché devono essere, diciamo, devono circoscrivere, delineare, definire la realtà, in tutte le sue aspetti, attraverso le norme certe, e, soprattutto coerenti, tra di loro, e allora, insomma, lui diceva, un fatto banale, che però le banche, hanno stravolto, e cioè, che, la banca, quando tu vai a chiedere un mutuo, fino a un 20-30 anni fa, ti dava, io mi ricordo che ci andai, andai, sulla mia bella 24 ore, e mi dettono 60 milioni di liquidi, e era un bel pacchetto di soldi, insomma, erano varie, varie mazzette di soldi, che ho messo la mia bella 24 ore, me la darevo bene stretta, oggi, questo non la viene più, allora, tu, c'hai un mutuo da 60 mila euro, per esempio, ti dicono, va bene, allora, guarda, ti 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 ti, guarda, ti ho trasferito, i numeretti sul tuo conto, quello non si può fare, sono abitizzi, non si può fare, perché poi, tu da me, se io non ti ridò il tuo mutuo, da me vuoi la casa, che quella è vera, non è un numeretto, è chiaro? Allora, lo dice, adesso l'articolo del codice civile, non me lo ricordo al volo così, però il codice civile dice chiaro, che è un mutuo, e si chiama mutuo, perché il senso della parola mutuo, è mutualità, cioè mutuo, è qualcosa che va in un senso, e va in un altro, ed è mutuabile, è chiaro il concetto? Andate a vedere il significato semantico della parola mutuo, e vi rendete conto del dato che fa la banca, cioè la banca vi deve dare, sull'unghia, tanto oro, quello è, non manco banconote, oro, mi dai oro alla valutazione della borsa di Londra, alla data odierna, che ne so, 1300 euro, come si chiama, il peso dell'oro, a uncia, mi dai 1300, mi dai tanto oro, per il valore commerciale dell'oro, oggi a 1300 euro a uncia, poi, da me, io ti ridò tanto oro, che in quel momento lì, valgono 1300 euro a uncia, è chiaro? Questo si chiama mutuo, e invece le banche, no, e allora il mio amico, Marco Della Luna, gli ha fatto notare questo, è uscito fuori, il consulente della banca, questa cosa non c'entra niente, ma penso che mi interessi, mi interessa a tutti, se la notizia è una notizia esplosiva, non lo sa nessuno, nessuno, allora, praticamente, il consulente della banca d'Italia, ha detto, semenamente, ma è così che si fa, non è normato da nessuna parte, e noi lo facciamo, ah, ha detto Marco Della Luna, ah cacchio, allora, vamo pure noi, e adesso è un anno, che Marco Sabba, insieme a Marco Della Luna, ma della cosa che stava occupando, Marco Sabba, sta facendo, i coin, i cosiddetti coin, mi ricordo che si chiama, non i bitcoin, un altro, noi coin, una cosa del genere, vabbè, questo lo sapevi, Marco Della Luna, mi hai sorpreso, come sempre, mi sorprende sempre, capito, questa è la questione, cioè noi oggi, abbiamo al potere, gente che crea i soldi da nulla, e te si compra casa, che tu hai lavorato 50 anni, per pagarla, e te la ruba, e poi te le manda all'asta, le paga un quarto del suo valore, c'è un'amica, un'amica, un collega nostra, che ha comprato una villa, con un ettro e mezzo di terreno, a fianco al lago di Martignano, esce da casa e sta sul lago di Martignano, lago di Martignano, 180 metri di casa, e 15.000 metri di terreno, l'ha pagato di 78 milioni, e 1.000 euro, ci copri il garage, presa all'asta, presa all'asta, ovviamente, perché, vi sembra umano, vi sembra umanitaria, la cosa del genere, vi sembra una cosa, diciamo, che abbia una villa, qualcuno ha preso una villa, per o meno nello stesso modo, fa già molto tempo prima, no, proprio Raffa Gala, proprio con l'infamia, l'ha explicato, lì ha fatto altro, lo facciamo bene, quindi questo per dire, che la situazione attuale, è messa in questi termini, questo è lo sconquasso creato, cioè, il privato cittadino, umile cittadino, è uno schiavo, praticamente non c'ha più nessun diritto, le banche, le finanziarie, hanno le leggi per conto loro, guarda, vi racconto un'altra cosa, vi interessa? Vi interessa? Allora, vi racconto, la legge 130, del 99, dice che è, lo sapete? È una legge, va rovinata a tutti, ci ha rovinata a tutti, non lo sa nessuno, queste sono le cose, non le, l'isola dei famosi, le buste di plastica, adesso che si sta scoppiando il casino, le buste di plastica, chi c'ha la ditta e chi non c'ha la ditta, queste sono le cose che dobbiamo sentire ai telegiornali, queste sono le notizie importanti, invece la diadriba, non ci sta la ditta, non ci sta la ditta, la ditta della bucchifala, produce la busta di plastica, deve avere una spesa, parliamo di centesimi, qua ci stanno rubando i milioni di euro, i miliardi, i miliardi, allora abbiamo fatto una denuncia, quando abbiamo scoperto queste e altre cose, nel 2010, abbiamo fatto il 21 giugno del 2010, abbiamo fatto una denuncia contro la Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e le banche commerciali, perché ci, no, questa è stata una successiva, sempre l'abbiamo fatto verso le banche, ma era un'altra cosa, era a settembre del 2011, o agosto settembre del 2011, adesso non mi ricordo più, bene, facemmo questa denuncia, per l'invasione fiscale, da parte delle banche italiane, di una cifra, diciamo, oscillante, fra gli 700 e i 1200 miliardi di euro l'anno, miliardi l'anno, cioè in due anni, potremmo, se non fosse pure falso, il debito pubblico, potremmo alzerare il debito pubblico, e vanno a rompere le valle, ai baristi che non emettono, hanno dato le calicca gratis al ragazzino, che gli faceva compassione, e io andrò a chiudere tre giorni l'attività, cioè siamo, ve racconto un'altra cosa, e questa è troppo bella, allora, a seguito di queste denunce, alla fine un procuratore ha detto, ma forse questi c'hanno ragione, era, il procuratore era Emilia, Emilia Medio, è uno conosciuto, uno che ha fatto indagini toste, insomma questo qua, ha detto forse questi c'hanno ragione, vediamo un po' un attimino, no? E allora ci convocano, alla sede centrale della Guardia di Finanza, a me e a Giorgio Vitani, e a Maurizio Cerchiara, pure, allora, Maurizio e Giorgio, hanno detto, no, noi non c'entriamo niente, prendete la Laura Asso, perché lui ci ha fatto tutto, noi abbiamo solo filmato, come al solito, però sanno, sanno che le cose le scrivo con criterio, e che quindi siamo in una botte di ferro, quindi, allora, io poi sono andato lì, e sono stato lì, praticamente tutta la giornata, praticamente ero lì, arrestato, come arrivo lì, c'era il tenente dell'ufficio, mi fa documenta, e io gli do il documenta, e quindi, diceva bene, allora, in estrema sintesi, ci dice, allora, tenete presente che aveva raccolto, il procuratore, una serie di denunce, che erano circa 170 pagine, di formato A4, e era un fascicolo così, e io me l'ho portato da casa, un altro fascicolo così, dei documenti, che gli dà alle gare, circa 350 pagine di roba, 400 pagine di roba, allora questo mi fa, mi ha fatto un po' girare palle, e ha detto, e va bene, allora, in estrema sintesi, che cosa, diciamo, vuole lei denunciare, con queste sue querelle continue, e ha detto, scusi, allora, il 24 giorno del 1943, alla bazia di Cassibile, e questo, guardate, ma, come il 1940, vuole in estrema sintesi, io che faccio una sintesi, dice, ma lei, lei mi sta dileggiando, io ho detto, no, 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 io sto scrivendo, voglio che lei scriva, dice, ma io, quando finiamo, è il tempo che ci vuole, dice, allora, allora, io mi diverto, con questa cosa, allora dice, va bene, facciamo una cosa, ho detto, visto che lei, è così gentile, e io, sono disponibile, diciamo che, io, vi do, l'elenco, già fatto, di questi, di questo materiale, contenuto nel dossier, che io, vi, sto depositando in questo momento, lei fa semplicemente, un verbale di ricezione, e dopo di che, con calma, lei si rileggi, si studia, mi ricontatta, mi telefona, mi convoca, quello che vuole, io sono qua, sulla disposizione, e nel frattempo, che stavamo lì, alla fine, poi ha fatto come ho detto io, e poi c'è un seguito, come vi dico, però in quel momento lì, è stato bello, perché, è stato simpatico, diciamo, perché, gli ho detto, guarda, allora, qui stiamo, facendo, diciamo, anche ricerca, sul campo, di quello che avviene davvero, no, e quindi, dei reati, che riguardano, appunto, la guardia di finanza, e ho detto, scusate, ma voi, io ho detto, ho fatto, voi andate a multare, il barista, che non emette lo scontrino, quando ci sono questi, che eludono, 1200 miliardi di euro, all'anno, dice, beh, sa, guardi, queste sono le denunce, intervenite, se vedete che è vero, quello che sto dicendo io, andate immediatamente, arrestate, il governatore, la banca d'Italia, immediatamente, e tutto il direttorato, il direttorio generale, eh, ma questo, dice no, abbiamo un ordine, di non, abbiamo, si era messo a piaggio, un altro po', cioè, era uno convinto, militare, che lo faceva per convinzione, per passione, e si vedeva costretto, a dove fare l'ustrascarpe, alla banchiera, cioè, siamo a questo punto, allora, questo, faccio ancora un attimo, proseguo un attimo, per spiegare, quando da finire, poi, la questione, e poi, andiamo al discorso qua, cioè, è andata finire, dunque, questo era, più o meno, maggio, fino aprile, maggio del 2014, nel luglio del 2016, un anno e mezzo fa, mi arriva un atto di citazione, di archiviazione, di una, di questa indagine, al che, con Giorgio, dico, ma questa è una cosa seria, che non ci possono, ma annullare tutto un lavoro, di anni, per creare questo dossier, e poi questi, ci annullano, d'ufficio, stai cosa, andiamo, alla procura di Roma, andiamo alla procura di Roma, e facciamo estrarre, il, il testo del verbale, del perché, era stato archiviato, in estrema sinistra, il tenente, aveva capito, e quindi, ha detto, sì, effettivamente, emergono, elementi di prova, di reato, e quello che dice, Orazio Ferniani e Giorgio Vitali, è vero, ma, un'altra, beh, ce l'ho, ecco, tutto, non è che racconta, io ho studiato come chi ce l'ho, il suo superiore, cioè il tenente colonnello, sì, è vero quello che dice Ferniani, è vero quello che dice il mio tenente, ma siccome il presidente della Repubblica, e tutti i ministri citati, in calce, su queste denunce, sono dei perfetti idioti, incapaci di intendere di volere, pure se erano nel pieno delle loro consapevolezze, non avevano l'esperienza, e quindi non c'è il reato colposo, il reato c'è, ma non possono essere perseguiti, devo aggiungere qualcosa, c'è la, ora se l'ha detto l'ispettore, il capo, il generale, dillo chi l'ha detto, no, aspetta, allora non ci siamo mica firmati lì, abbiamo denunciato il tenente colonnello, abbiamo denunciato pure Emilia Medio, e ora c'è il processo, che andrà a finire, che sono dei perfetti, allora, questa ne la sapete, ve l'ho ancora questa, lo sapete che il signor, il signor Matteo Renzi, è stato ufficialmente riconosciuto, con il capace di intendere di volere? Sì, 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 Lo sapevate? No, da Oretta, da Oretta, da Oretta, allora, noi abbiamo fatto una denuncia, è partita da noi sempre, ovviamente non viene, allora, questo, ora è di dominio pubblico, spegniamo, a meno che non ci cancellino anche la pagina di World of Change, che già ci hanno cancellato i profili, oddio, allora, abbiamo fatto una denuncia per, contro Matteo Renzi, però non mi ricordo che cosa, e però l'aveva fatta prima di noi, uno che ce l'ha morto con Matteo Renzi, che è un ex impiegato, o un impiegato del comune di Firenze, Eh, non me lo ricordo come si chiama, insomma, uno che è incavolato nero con Renzi, e che ce l'ha guido anche di riscontri, eccetera, e insomma, ovviamente, la consulta, è stata la consulta, ha ufficialmente riconosciuto, però che ha detto, in quel momento, il signor Matteo Renzi, non era capace di intendere di volere, ma quando uno, in un momento, non era capace di intendere di volere, io dubito anche, e degli altri momenti dopo, perché vuol dire, evidentemente, c'è delle tarie, c'è dei problemi, una, dico ancora solo una cosa, allora, un'altra notizia, che avrebbe dovuto fare, una scultura eccezionale, noi abbiamo denunciato, tutti, allora, la conquista dello Stato, le disgregazioni dello Stato, non è che avviene per caso, avviene andando a toccare, certe leve, le leve dello Stato, in realtà, non sono le cariche istituzionali, cioè i ministri, i sottosegretari, i parlamentari, i senatori, no, sono direttori generali, quelli stanno lì, per 40 anni, sono loro che gestiscono lo Stato, cambia il governo, cambia il colore del governo, non gli frega un po', loro stanno portando avanti, che ne so, una trattativa con il Botswana, e stanno cominciando a fare degli accordi economici con il Botswana, non gli frega niente, di quale governo cambia o non cambia, e quindi vanno avanti, e loro sono loro che consolidano lo Stato o lo disgregano, e invece, che cosa è successo? E a partire sempre da date fatidiche, fra il 91 e il 92 in particolare, ma partendo anche da molto lontano, ma in quel momento lì è emerso, perché sono state fatte le leggi, le leggi sono come dei mattoni, sono i mattoni che regolano la struttura dello Stato, tu cambi un mattone che è fragile, o che è tarlato, e quello solo non crea il crollo del palazzo, ma magari se ce ne metti di 150, alla fine crolla il palazzo, quello che sta succedendo. E allora abbiamo fatto tutta una serie di denunce, tante, tantissime, perché poi quando la gente sa che noi facciamo le denunce, ci mandano vagonate, oramai mi arrivano vagonate, le informazioni di reato, ma tante, proprio, ogni tanto, anche quello che abbiamo fatto con te, era un materiale che mi aveva fornito uno dei nostri collaboratori, che sta in un determinato posto e che sa le informazioni di prima mano. E quindi abbiamo denunciato questo fatto, cioè che cosa era successo? Un amico, intendente di finanza, intendente di finanza è come il prefetto, cioè è uno che conta, è uno importante dentro lo Stato, in Italia dei prefetti ce ne sono 110, no, meno, in provincia ce ne sono 110, 110 prefetti, e ce ne sono 110 intendenti di finanza, adesso c'hanno un altro nome, li hanno completamente snaturati, e che cosa fanno questi? Gli intendenti di finanza sono quelli che controllano l'andamento dello Stato per la tutela dei beni dello Stato, no? E quindi i beni dello Stato sono il demanio, il demanio in tutte le sue forme, insomma, il demanio ovviamente doveva essere regalato, che cosa hanno fatto? Hanno tolto di mezzo gli intendenti di finanza, siccome non lo potevano fare sparandogli in faccia, l'hanno fatto veramente, con il letto bianco, al solito, e che cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di leggi contro la Costituzione in una maniera pacchiana proprio, vomitevole, esattamente come queste che adesso vediamo qua, come le 119, una mare, cioè quella gente lì va messa impiccata, va impiccata al palo del pennone, va impiccata, quello è un tradimento, un tradimento che una volta uno beccato con un sorcio in bocca come quello, si sparava, fino a, in Inghilterra, il profumo, ti ricordi? Si sparò, nel 50, che era, 58, 56, 60, adesso non me lo ricordo più, questo per dire che siamo di fronte a una degradazione morale assoluta, cioè questa gente che andrebbe presa a calci sulle palle dalla mattina alla sera appena lo individui, invece va tranquillamente in giro e ti guarda pure in faccia a ride, il guaio è che la gente non lo sa, è lì il guaio, e non ha nemmeno idea pure sapendolo che quello stava facendo un reato gravissimo, gli sta sottraendo lo Stato, non un diritto, gli sta sottraendo lo Stato, e insomma che cosa è successo? È successo che questi infami, fra cui ha chiamato D'Alema e quant'altro, altri, ma poi parlavo della legge 130, vabbè, non affrontiamola perché è troppo lunga, insomma fatto sta che a un certo punto abbiamo scoperto questa cosa, tramite informazioni che ci sono arrivate, abbiamo fatto noi e anche altri, una serie di denunce alle varie procure in giro per l'Italia, anche al Tarra, anche in giro in altri tipi di tribunali, fino a che finalmente, un anno e mezzo fa, un briciolo di informazioni tra filetto su questo è uscito, siamo riusciti a far condannare 867 direttori generali dell'ufficio delle entrate, su 1200, cioè 867 erano venduti a, sapendo, consapevoli o non consapevoli, a J.P. Morgan che sta tentando da appena alla fine della guerra di comprarsi in Italia, comprarsi, diciamo, a caparrarsi in Italia a non per scuola. Ecco perché, per esempio, al sec del registro del lavoro, c'è anche Italy, S.P.A. e c'è. Questo per dire che stanno lì per cercare di prendersi tutto e allora noi possiamo stare a questo gioco, arriviamo a questo che stiamo facendo. Perché lo stiamo facendo? Perché, come ho detto, ci sono molti sistemi per prendere il potere, quasi tutti violenti, ma ce ne sono anche di non violenti. E uno, per esempio, è quella della gestione della moneta, dell'emissione della moneta. E si può fare. Non c'è bisogno né di governo che vada al nuovo governo vada al potere, né di nuove regi, né di niente che non ci sia già adesso. Uno volendo, ma questo è un argomento che poi toccheremo un'altra serata, e quindi c'è questa possibilità, è fattibile, tant'è che, appunto, come dicevo prima, l'amico Marco Sabba e Marco Dallura lo stanno facendo. Hanno emesso nel giro di meno di 7-8 mesi una quindicina di miliardi di euro della loro moneta e stanno pagando dei debiti allo Stato e alle banche con quella moneta. E ci sono buone probabilità che riescono. Ripeto, il cambiare sociale. No, la cambiare sociale è un discorso. Quella invece è un altro discorso. Quella di Marco Sabba è un altro discorso. Ma è comunque un'autoemissione. La cambiare è un'autoemissione di valore diciamo delegato nel tempo però è comunque lì invece è un po' diverso. Cioè lì vi do scusa approfittando appunto dei vuoti legislativi che ci sono in questo ambito praticamente riescono a emettere moneta anche loro alla pari delle banche. Autoemettere moneta. E' una diciamo potete andare a vedere Marco Sabba Coin adesso non mi ricordo come allora invece per arrivare a oggi in questo contesto vi dicevo ci sono due modi prevalentemente quella di emettere moneta come abbiamo detto è quella di cominciare ad agire sul disconoscimento dello stato attuale e cioè della del marcia del cambiamento della cammino del cambiamento oppure la come dice la oddio non mi è la parola che dici sempre te no no oddio un momento l'amnesia e no niente quella disaffezione civile cosa si dice ah come disobbedienza civile ecco non mi no ogni tanto c'ho questi lapsus sui indiani no parole comunissime vengono altre complicate a cui a chi dobbiamo la disobbedienza civile e ce l'ha segnata c'è sta qui e allora ecco la disobbedienza civile è un altro argomento che è sicuramente un altro strumento che si può utilizzare in vari modi per ottenere il riconoscimento della propria identità e di diciamo rifiutare il vecchio regime quindi una delle fasi che è possibile mettere in atto appunto è quella che abbiamo diciamo è una falla che abbiamo sfruttato e che col tempo e una serie di fasi ci porterà ad avere un certo risultato anche più lontano nel tempo ma che è quello determinante insomma quello che veramente ci importa come funziona funziona che ve l'ha spiegato bene appunto Andrea prima ma quello che è importante occorre spiegare che ci fa siccome ci fanno l'obiezione continua del fatto che comunque con questo tipo di voto non incidiamo in niente cosa avvenga esattamente dal 5 di marzo dopo il 4 di marzo cosa avviene ecco quindi c'è questo diciamo questa discordanza diciamo di questa mancanza di fiducia no ma questa discordanza di diciamo consapevolezza di concetti da introiettare cioè praticamente noi sappiamo che funziona così ma la gente non capisce esattamente perché essendo la prima volta non ha infatti diciamo la prima volta nella storia italiana quando uno fa l'amore la prima volta va glielo a spiegare a quello che non ha mai fatto l'amore che cosa è il sesso è difficile ecco siamo nella stessa fase c'è da ridere ma è difficile come fai a spiegare una parola una cosa di così grande dimensione è difficile lo diceva anche Einstein questo benvenuto adesso c'era una signora che rompeva sempre le scatole nelle varie conferenze non sempre la stessa ma capitava soprattutto le signore che andava in giro a spiegare la formula della teoria della relatività estesa e ridolta e c'era sempre la signora ma in estrema sintesi in estrema sintesi e diceva appunto se non conosci l'agricoltura se non sai come si fa la molitura quale parte della farina viene utilizzata come si fa la concimazione la la come si dice il lievi lievitare come si usa il forno e c'era come si fa a spiegare come è fatto il pane se tu non conosci tutta quella serie di gradazioni di informazione e quindi questo è cioè noi oggi non possiamo andare a spiegare nel dettaglio esattamente noi lo sappiamo noi lo sappiamo la signora Cesira De Pochera non ci capirà mai è impossibile non c'ha gli elementi non potrà includere in un contenitore un contenuto che noi gli mettiamo non c'ha il contenitore come fa a contenirlo ma perché sono stati abituati che devono avere l'informazione così che gli arriva già il prodotto finito già cotte e mangiate e digerita pure allora ecco il discorso è che ogni azione in senso diciamo generale c'ha sempre non solo una finalità ma decine a volte centinaia di finalità cioè uno dice che ne so sempre a parlare a proposito d'amore dice quanto sei bella uno può avere mille motivi per dirti quanto sei bella magari sei bella perché conosci solo te per lui sei bella se conosce mille donne magari dice beh forse è meglio un'altra no è sempre una cosa relativa alla parola ecco quello che voglio dire quindi riuscire a spiegare con le parole qualcosa che non ancora esiste e che non è mai stato proiettato diciamo in Italia nel senso proposto è chiaro che tu non puoi avere diciamo quella qualità di messaggio per trasmettere quella quantità di conoscenza non c'è il tramite e allora per esempio tanti ci accusano ma se vuoi io faccio il voto di protesta comunque non incido niente nelle elezioni vero ma il voto la parola voto non voto elettorale ma voto è valida non è il voto elettivo non è valido perché poi nel diciamo nel suseguimento delle leggi con un sistema elettorale studiato non è valido ma per esempio nei consigli d'azienda nei direttori tutti votano e non è mica solo per eleggere delle volte fai il voto per eleggere delle volte fai il voto semplicemente per dire il tuo parere su un argomento che sta in discussione no? quindi il voto è un concetto diciamo che c'ha molti spessori molti strati di significato e quindi uno strato uno degli strati di questi significati è quello che noi vogliamo testimoniare la nostra reduzione il nostro schifo verso questa gente qua che non ci rappresenta in niente io non mi cambio un'unghia con uno di loro ma a differenza di un voto normale richiede coraggio perché ci mettiamo i nostri dati nome e cognome la cosa importante è che tu vai nel segreto della cabina e scrivi stronzo per esempio hai annullato il tuo voto hai espresso il tuo dissenso la tua rabbia ma non hai risolto niente viceversa andando a depositare il voto di protesta quello è un voto non è elettivo ma è un voto perché tu stai dimostrando pubblicamente il tuo schifo la tua repulsione ecco che appunto c'è questa è un discorso di di riconoscibilità della propria identità e della propria volontà cioè non puoi andare a a intaccare una delle qualità identitarie più assolute che è quella del voto dell'espressione del mio parere in merito all'argomento che riguarda tutti i cittadini italiani io non mi rifugio nell'anonimato io non mi rifugio nell'annullamento diciamo così fantasmico no fantastico diciamo no fantasmico vabbè in termini un po' forzato fantasmico vabbè comunque avete capito non mi viene proprio esatto insomma avete capito il concetto allora il fatto è questo noi non possiamo continuare a fare finta che va tutto bene madama la marchesa non è così noi oggi siamo qui a dimostrare che basta non c'è più tolleranza noi quelli che voteranno in quel modo lì non siamo più disponibili ad accettare compromessi di nessun genere ad accettare il compromesso votiamo il meno peggio perché tanto comunque sono uno più schifoso dell'altro e così via ma cosa importante diciamo Razzo non siamo qui per convincere voi come non siamo qui per convincere nessuno noi stiamo facendo un'opera di informazione che vi rende consapevoli dei vostri diritti perché questo rientra nei vostri diritti poi chiunque voglia applicare un'informazione consapevole che dimostri che i propri diritti possono diventare qualcosa di pubblico qualcosa che abbia voce rispetto ai nostri diritti allora sarà libero di procedere e farlo ma non vi stiamo convincendo come fanno i partiti e vanno in giro a fare campagna politica noi stiamo facendo ragionare sui determinamenti che vediamo molto diverso completamente opposto a quello che fanno quei signori lì che si professano politici perché i politici dovrebbero pensare alla polis al bene comune e non lo fanno anzi pensano nella quasi maggioranza dei casi sempre ai loro interessi privati noi qui lo stiamo facendo gratis nei nostri giorni di riposo che potremo come molti giustificatamente utilizzare per fare tutt'altro invece siamo qui a dare informazione perché come dicevo prima chi dovrebbe farla con l'informazione ha smesso di farla da tanti anni e se siamo qui è perché vogliamo che quell'informazione continuate a farla girare voi nelle vostre case con i vostri figli con i vostri parenti con i colleghi con gli amici con i conoscenti perché altrimenti questa informazione non potrà arrivare alla massa critica delle persone che potranno esercitare il loro diritto questo è quello che vogliamo trovandarvi e questa è l'informazione che vogliamo darvi no ma poi tanti ci obiettano anche ma io ci devo mettere la faccia io rischio e poi magari mi fanno le ridorsioni magari mi minacciano non mi fanno partecipare a un concorso pubblico ma la vita è tua cioè tu devi fare le due scelte nessuno ti dice che tutto è gratis e tutto è dovuto cioè ognuno di noi la mattina si deve alzare e cominciare a correre o che sei gazzella o che sei leone devi correre perché se sei gazzella devi scappare dal leone se sei leone devi scappare la gazzella quindi non c'è possibilità di dire io vivo di rendita la rendita prima o poi finisce qualcuno può fuori farlo ma è un caso particolare cioè noi non solo perché ci serve ma perché siamo dobbiamo appunto avere identità noi siamo e quindi avere identità significa riconoscersi delle qualità riconoscersi delle diversità riconoscersi delle abilità ed è lì che dobbiamo andare a combattere perché ora io ho un argomento un po' che Andrea ha accennato prima e che invece è di una allora abbiamo premesso questa catastrofica visione della situazione attuale ma questo non è niente il confronto è quello che arriverà se non facciamo qualcosa adesso cominciamo adesso a fare qualcosa poi ci vorranno anni magari 5 anni 10 anni 20 anni però se cominciamo possiamo poi avere qualche prospettiva di speranza di poter concludere un percorso se non lo iniziamo mai non lo finiremo mai e allora come diceva lui appunto siamo oramai da un paio d'anni tre anni immersi nella quarta rivoluzione industriale quando Adam Smith fece le sue teorie filosofiche che oggi fanno ridere ma all'epoca aveva una fondamenta delle fondamenta solide su quella che era la società perché la filosofia è basata anche sulla concretezza sui rapporti sociali su tanti elementi reali non solo astratti e quindi la sua analisi diciamo filosofico finanziaria economica era basata sull'economia dell'epoca oggi noi viviamo ecco no e quindi era la prima rivoluzione industriale praticamente gli albori della prima rivoluzione industriale le successive rivoluzioni la seconda e la terza semplicemente mentre allora l'uomo primitivo cioè fino a che diciamo quello che viveva anche in epoca medievale anche rinascimentale viveva secondo delle regole diciamo di sopravvivenza pura cioè si costruiva una baracca con le foglie con i rami con le canne e quant'altro oppure muratura con lo fango e così via e si creava diciamo un tetto sulla testa per lui la famiglia e poi andava coltivando qualche corticello qualche cosa così insomma normalmente era quello per far bisogno della famiglia o poco più e quindi lavorava di media ascoltate tre ore al giorno quante ore lavoriamo noi oggi? lavorava tre ore al giorno a un certo punto è arrivata la rivoluzione industriale e lì tutti a lavorare perché bisognava guadagnare perché se no la richiesta di prodotti agricoli da parte della società più ricca non avrebbe fatto avere sufficienti elementi per nutrimento per le classi meno povere quindi tutti a correre a lavorare e bambini tutti Charles Dickens racconta nei suoi romanzi dati romani io l'ho pure tradotto un paio l'ho tradotto quando andavo a lettere e c'era appunto questa diciamo necessità di queste corse per uscire dalla difficoltà economica accorreva e c'era questa prospettiva rosea del futuro Charles Dickens vedeva sempre tutto rosa nel senso al times e così via insomma tutte queste diciamo prospettive di crescita ottimistiche ed era vero era vero perché questo se uno ci sapeva fare lavorava qualche ora in più e magari mandava pure i figli a lavorare a 5 anni in miniera e così via comunque in qualche modo riusciva a sfangarla e viene anche un po' meglio con qualche mobile dentro casa che prima magari c'era solo un tavolaccio e quindi c'era comunque questa incentivazione che era embrionale ma era già un inizio e allora prima rivoluzione arriva la seconda rivoluzione e cosa è successo? Dio tutti o Dio adesso che sa che succede non è successo niente perché quello che faceva il fabbro ferraio è diventato il carrozziere è diventato il meccanico e quindi ha mutato leggermente la sua attività ma quello più o meno faceva e si creavano sempre più posti di lavoro perché si espandeva l'economia c'era maggiore richiesta e così via quindi sempre ottimisticamente attorno all'inizio degli anni 50 con l'inizio della seconda guerra mondiale diciamo con oddio adesso non mi ricordo come si chiamava c'era una legge emessa da non mi ricordo se era Roosevelt adesso mi pare che era Roosevelt nel 32 emise questa legge per cui c'era questo ottimismo per uscire fuori dalla crisi del 29 insomma faceva tutta una serie di diciamo annunci per cercare di convincere la gente ad affrontare con serenità e speranza il futuro e quindi anche lì terza rivoluzione industriale con espansione dei consumi con espansione del marketing con espansione e oggi siamo nella fase terminale di questa fase però siamo anche alla fase iniziale del quarto ne ho sortato una va bene insomma è uguale siamo nella fase terminale e all'inizio della quarta fase della quarta rivoluzione industriale questa quarta rivoluzione industriale prevede però una cosa grave molte cose gravi primo l'automatizzazione spinta che c'è in questi anni poi ve la racconto breve faccio un esempio molto breve costringerà cioè da una parte la competizione internazionale fortissima spinta fino all'inverosimile costringe gli imprenditori a dover ridurre i costi di produzione al massimo e quindi alla diciamo modifica delle lavorazioni non più con manuali o comunque impiegati o professionisti umani ma con questa forza lavoro automatica meccanica e quindi noi ci troviamo di fronte a questa quarta rivoluzione che come prospettiva c'ha nel giro di un massimo una quindicina d'anni il fatto che probabilmente l'uomo non lavorerà più e potrebbe essere anche un grande sogno avverato cioè non essere più costretti a lavorare per ottenere la sopravvivenza e anche una certa qualità di vita e invece oggi la situazione è proprio in direzione completamente contraria cioè oggi le aziende allora dico questo entro due anni il 25% dei lavoratori cinesi sarà senza lavoro immaginate due anni quindi due anni noi ci ritroveremo con circa 300 milioni di cinesi che non lavorano più cosa faranno 300 milioni di cinesi che non lavorano più una bella domanda e noi andremo un po' più là ma non di molto perché ecco il perché il job act per esempio che ha formalizzato un dato di fatto cioè praticamente la gente non deve costare il lavoro non deve costare arriveremo al punto così estremo di automatizzazione e soprattutto robotizzazione addirittura stanno studiando le puttane robot ma sono già quasi pronte questo per dire e c'è un robot che addirittura secondo dell'estruzione del viso sa che cavolo pensiamo noi ma stiamo parlando e già c'è purtroppo ci sono già queste cose sono prototipi ma già ci sono non è che vi racconto io sono abbonato a una marea di riviste informatiche inerenti alla ITC in generale e queste notizie arrivano tutti i giorni quello che sto dicendo che paranità magari già le sensazioni come fa a elaborarle un no guarda nel dettaglio non te lo dico ci sono esperti di comunicazione non parlo qui di macchine ci sono esperti di comunicazione che rispetto alle tue movenze facciali quindi studiano le movenze facciali non riescono già a definire se tu stai dicendo una cosa vera o falsa ok anche interpretare i tuoi pensieri l'espressività viene studiata da una macchina la macchina riesce già a capire quello che tu stai dicendo prima ok perché vedono se posso interrompere prego veloce il linguaggio del corpo però la sensazione dell'essere umano come fa un robot a percepire non lo sappiamo chiuso il discorso poi te lo vai a vedere c'è la soluzione c'è un film perché i film anticipano sempre il futuro la fantascienza eh? ex macchina ex macchina andate per la vedere ah no guarda io sono un lettore marato di fantascienza da quando avevo 10-11 anni avrò letto circa 1500 libri di fantascienza ma forse qualcuno è più eh sì sì non lo conosco l'ho pure letto no è il film allora stavo dicendo non mi ricordo più stavo dicendo guardate che sono industriali ah ecco guarda quindi noi siamo di fronte a una lotta con un competitore che è enormemente più potente di noi cioè gli androidi che saranno creati dentro a livello industriale nel senso prodotti industrialmente e che si riprodurranno da loro industrialmente in cui l'uomo non intervenirà cioè loro si cloneranno e si riprodurranno esattamente guarda poi se vuoi ti fai a vedere tutti i documenti che ho io ti ripasso e ti fai una cosa ti sto dicendo la minima parte della realtà questo non vogliamo spaventare noi vogliamo solo mettere controlla andate a verificare allora no vi dico questo no vi dico solo questo e poi chiudiamo perché mi sa che abbiamo no anche perché andiamo a finire di spiegare bene la verificazione ah ok allora no 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 non toccare non toccare non toccare lascia lì oddio che dicevo come ricordo ah gli androidi noi siamo sul punto e entro breve saremo in competizione con le macchine cioè non è più il fabbro che diventa carrozziere qui noi abbiamo come antagonista un essere una nuova società senziente una nuova etnia senziente un genere senziente che sarà più abile di noi in tutto non in qualcosa di sì in qualcosa di no in tutto indistruttibile non sta male non fa sciopero non si rompe mai non si mette a sindacare o meno l'orario di lavoro una volta che l'hai pagato e comprato è tuo e se per caso si rompe cambia il pezzo meccanico e diventa nuovo da capo come fosse appena stato prodotto quindi abbiamo i giorni contati allora a proposito di fantascienza Isa Kasimov che è stato il più grande in assoluto e non era solo uno che si diventava di fantascienza era uno che c'era tre lauree e aveva partecipato per esempio al progetto Manhattan così tanto per dire eccetera 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 quindi ha sempre lavorato per i servizi segreti anche lui e quando fai certi tipi di lavoro non puoi esimerti dall'essere uno dei servizi segreti come il signor Antonio Di Pietro per esempio tanto per dirne uno che nessuno sa che vedo è sempre fatto domandò era a scuola mia quindi noi oggi ci troviamo nella situazione incomodissima di dover assistere oppressivamente perché siamo qui a grattarci come se niente fosse invece di andare a fare tutte le opere e le azioni che uno deve fare per cercare di diciamo in qualche modo deviare questo percorso sceno che stiamo percorrendo quindi dovremmo cercare di ovviare a questa intenzionale disgregazione degli stati del genere umano dei sentimenti della sessualità e del genere è tutto collegato è tutto collegato non sono commenti che comparte stagni a sé una sorpiatura una distruzione di qualunque concetto di rettitudine qualunque da quello ho fatto che mi bacca tremendo no dalla passione interiore dalla morale ecco l'etica è quello il discorso tutto oramai completamente allo sbanno perché ci hanno indotto e condotto ad arrivare gradualmente tassello dopo tassello passettino dopo passettino cratino dopo ratino a questa situazione attuale allora il voto di protesta ha una funzione non solo immediata valutabile nella sua azione di diciamo mutamento delle percentuali sui votanti sulle elezioni di uno candidato piuttosto che l'altro ma c'è una funzione morale e questa è la cosa principale io faccio il voto di protesta perché moralmente risento da te moralmente non ti conosco moralmente non hai nessuna terrivolezza per me e soprattutto dimostro agli altri che io mi ci metto di nome cognome faccia di fronte agli altri e agli altri io dico prendo questa posizione una mia posizione assoluta non relativa perché quando uno prende una posizione del genere è una posizione che non è facilmente mutuabile appunto con un porto capito è questo il concetto cioè noi affrontiamo il tema in maniera molto diversa da quelli che si propongono oggi come candidati che vanno dicendo le cazzate più assurde no anche il Bellusoni oggi ha detto via dall'Europa o anche adesso ho sentito delle cose allusinanti che voi umani non potete proprio capire capito questo vuol dire cioè siamo in una situazione in cui la risoluzione della coerenza è massima cioè non c'è più coerenza la gente non capisce manco più che cosa è vero che cosa è finto chi sta dicendo il vero e chi sta dicendo il falso non riesce più a distinguere perché è talmente tutto confuso e non ha fondamenta non ha pilastri fondamentali su cui arginare questa valanga di cazzate che ci viene detta tutti i giorni da tutti i mainstream e questo è il problema e quindi noi dobbiamo ricominciare a rinsaldare quella capitale sociale che ci deve riunire fra di noi attraverso l'animo attraverso la morale attraverso questi principi solidari questi principi che ci devono far contribuire al benessere correttivo ricordiamoci sempre che la polizia è stata costituita per difendersi dagli attacchi del nemico per aiutarsi nel momento in cui c'è bisogno di lavorare in dieci persone e non posso fare quel lavoro lì solo io deve esserci altra gente che mi aiuta e una volta lo facciamo per lui l'altra volta dopo io mi ricordo quando ero un bambino che abitavo qua a Pontinia io sono nato a Pontinia e mi ricordo che non c'erano gli operai braccianti i vicini quando si trebbiavano andavano tutti a casa di uno loro trebbiavano per tre giorni con grandi pranzate balli sull'aia era un divertimento eccezionale io mi ricordo ancora 4-5 anni e poi la settimana dopo si andava dal vicino si andava a salivarmi a bagagliere e così andava avanti la solidarietà io mi ricordo fino agli anni 60-65 questo si faceva oggi vai a dire alla gente oggi devi fare una cosa ma quanto mi dai ma come quanto mi dai se il mio vicino vaffanculo scusate ma molti ci hanno posto la domanda ma voi perché lo state facendo ma cosa ci guadagnate grazie